improvvisamente non riesci più a scrivere con la tastiera del tuo pc alcuni consigli pratici se hai una tastiera wireless prova a cambiare le batterie della tastiera se invece una tastiera con cavo verifica che il cavo sia correttamente collegato se non funziona ancora la tua tastiera prova a sbloccare la tua tastiera tenendo premuto per qualche secondo il tasto shift ovvero il maiuscolo oppure se anche questo non funziona tieni premuto entrambi i tasti shift quindi shift sinistro e shift destro contemporaneamente per qualche secondo